Un'enorme soddisfazione per noi perché è stato premiato il nostro operato. Così si è espresso il presidente del GAL Borba Gianmarco Bisio, dopo aver appreso la bella notizia dalla concessione da parte della regione Piemonte di 1.800.000 euro per lo sviluppo socio-economico delle aree montane e colinari. Ma complessivamente sono oltre 31 milioni le risorse elargite ai 14 GAL piemontesi. Serviranno per finanziare i progetti di qualità, dalla sentieristica per gli enti pubblici, a sostegno alle imprese private operanti nei settori tipici dell'economia rurale, più duramente colpiti dalle recenti restrizioni, dalla creazione di nuove imprese allo sviluppo di filiere e reti per la valorizzazione dei sistemi produttivi locali. Saranno finanziati, fra gli altri, i progetti dei comuni di Monbaldone, Montabone, Molare, Cassinasco, Bubbio e dell'Unione Montana dei comuni d'Altobbio al Colma, che andranno ad aggiungersi a quelli già finanziati di Aquiterme, Montechiaro, Diacqui, Monastero Bormi d'Accesso alle Carpenetto, Lerma, Rocca e Rimalda, Silvano, Castelletto d'Orba, Trisobbio e dei comuni delle unioni montane tra Langa e Alto Monferrato e Alto Monferrato all'Eramico. Il Presidente Bisio ha inoltre accolto con orgoglio la risposta del territorio inserito nel GAL Borba, dove sono già stati avviati i percorsi legati alla sentieristica e agli itinerari cicloescursionistici, sui quali il GAL punta molto nei prossimi anni come volano per uno sviluppo turistico incisivo. Grazie.